È in pieno svolgimento a Pistoia la decima edizione del Festival di Antropologia del Contemporaneo Pistoia Dialoghi sull'Uomo, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pesce dal Comune di Pistoia. Stasera alle 21.15 in Piazza del Duomo a Pistoia la fisica ed economista indiana Vandana Shiva, tra i massimi esperti al mondo di ecologia sociale e tra le voci più autorevoli nella difesa dell'ambiente, riceverà il premio internazionale Dialoghi sull'Uomo, istituito nell'ambito del Festival dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pesce. Il riconoscimento quest'anno alla sua terza edizione è conferito a una figura del mondo culturale che con il proprio pensiero e lavoro abbia testimoniato la centralità del dialogo per lo sviluppo delle relazioni umane e contribuito a migliorare il dialogo e lo scambio interculturale. Il premio è stato vinto da David Grossman nel 2017 e dal premio Nobel Ul Soinka nel 2018. La giuria, formata da Luca Iozzelli, Giulia Cogoli, Marco Aime e Adriano Favole, ha così motivato il riconoscimento all'attivista Vandana Shiva, a partire dal suo paese natale, l'India, ha contribuito con coraggio, determinazione ed efficacia a difendere la ricchezza della biodiversità, a mostrare l'interconnessione e l'interdipendenza tra gli esseri viventi, a valorizzarne la diversità culturale e il dialogo oltre ogni frontiera, a sostenere ovunque nel mondo i movimenti.